ok buono buono come ti chiami? Matteo. Matteo da dove vieni? Sassuolo. Ma tutti qua intorno state oggi? Senti perché fai il tandem? Mi è sempre piaciuto un po' lo sport estremo e quindi te l'hanno regalato o hai deciso tu? Ho deciso io però me l'ha regalato. Cosa hai fatto regalare? bravo hai fatto bene. Senti ti hanno spiegato quello che si fa adesso? Sì, direi di sedia. Più o meno ti ricordi? Mi raccomando Matteo. Allora ti preoccupa dell'importante che qua sei venuto per divertirti e provare una nuova esperienza bene adesso vai in aereo e divertiti ok ciao Matteo Ciao Buongiorno già in centro noi buono buono Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Wow, ok, se è libero puoi tirarti in su. Posso togliere la maschera? Sì, sì. Wow! Grazie. Stai qua però, aspetta che stanno... Tanto grazie. Atterranno anche gli altri. Prendere il brevetto quando ci vuole. Cioè quanto ci vuole in cui ho i costi? Il tempo, due sett... Una settimana. Una settimana? Sì. E i costi invece? I costi li devi chiedere dentro, dove hai compilato i documenti, lì ti danno tutte le informazioni del caso. E il brevetto non può capitare di assunto? Assolutamente, sì. Allora... 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 Allora...